ragazzi va bene c'ho gli incubi non la voglio vedere più c'ho gli incubi io stavo morendo dentro ogni volta che andavamo assolti ma poi sai quella cosa mi faceva ridere che droppavo più veloce di quegli altri che la placano ogni giorno mortacci loro comunque c'è solo un team qui c'ho la cassa c'ho il jug c'è uno a casa non è raga hai pompa vabbè è stato visciato no non doveva permetterci capito ancora la casa in fondo a 105 casa quale rotta o quella dove sto lanciando lo vedo piano sotto sta scendo sul retro uno solo ne ho visto io è sul retro uno no no un altro streamer by the way quell'arma è mia c'è un impostato per mettere l'ultimo l'ultimo no stilatissima cioè questa è la stilatissima ma trolli granate get out of your demo no 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 io ragazzi ho solamente un pump non ho niente c'è tutto quello che vuoi sotto sotto e sopra la gas station dietro 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 esattamente dietro la gas station io non vi guardo neanche avete proiettili oh mio dio guarda io non ce neanche provato a venire totalmente incazzati io ho tirato dritto facendo le piano sparo piano sparo quello stava piangendo comunque ragazzi niente da dire ma sta risoluzione è troppo superiore lo sto chaisando è qui davanti che palle pieno di alberi no lo prendevo maledetto di modo mai mai pensato che avendoli chiamati euro che tipo magari qualcuno nella tua chat vince non so per dirti mille euro corre dalla mamma e mamma mamma ho vinto mille euro succede un casino ma lì è bruttissimo dietro l'occhio raga mi auguro l'intelligenza delle persone non lo sai per di questi no ero io lo sniper non ce l'hanno loro sanno sparare sanno sparare guarda vieni qua occhio bro che da qua ma non prende a me lo so lo so occhio dietro che hanno ripetato raga non so se vengono da noi cercali se qualcuno è morto o da dove qualcuno mi riesce a restare istante prima che arrivano mi spaccano tutto muro 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 oh mio dio ragazzi c'è un altro team uno a fianco a me uno a fianco a me uno deve cercare di murarci sotto ce la fanno cadere 1 2 1 dai cazzo ok lasciatemi qua raga uno sta arrivando smicchi da dietro eh occhio marda uno è lottato col cerco non ho capito dove è finito noi no ragazzi premo del danno infinito non è vero giochi guys qua davanti eh spaccatemi il muro spaccatemi il muro bravo bravo bravissimi e morte e morte e morte bravissimi ragazzi dalla prova boys dai dai a casa a casa gg ragazzi scoppa però c'è uno scendone qua c'è uno slurp scusa e pure c'è uno davanti uno dov'è? a rado dai vaverà a caso va da solo? ah ah qua c'è uno slurp e un tic altra gente nord 345 da me io sto facendo uno skirmish ciao bello eh ho visto però eh riaditemela come era prima poi eh e gare 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 lo so lo so lo so il creator ti ha dobbato è lockato questo questo anche la trappola vai tranquillo che pompa stai usando io riesce ad andartene via di mo no mitano comunque io arrivo a questo con rampino lo so dov'è arrivando povero il blink fa male la zona pensavo fosse quello che ha knockato con lo sniper quasi cazzo dietro l'ha tirato solo se ne escono ok si è morto vabbè ma questo era un coglioncino ma come cazzo la risolvo io sta partita ho perso sta partita è gg guarda qua sotto c'è un'orda satanica ragazzi i sub avranno modo di giocare con me tempo al tempo per oggi è il primo giorno da filiazione fate passare un mesetto e si credono tutte si da un bevi si da bisogna un senso di focus quello sa giocare anche tu che situazione di merda devo cercare di entrare in safe oh mio dio è riposizionato ti ha dato l'high ground grazie davide quanti cazzo me ne hai dati sono l'urpe qua davanti si è sotto l'urpe chug non ho più materiale sono morto bello ho giusto perdo 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 il metal appena sotto a destra la che hai fatto prima è quella? si si è lì giù quella lì? no quella è un'altra però è croccante anche quella primazzo dicevo se ne avevi bisogno nooo ho preso lo scudo 1v1 1v1 comunque davanti ti è rimasto se viene alla tua parte erite e fottilo ha cazzato da solo bro si ha sbagliato da solo che c'è l'upper? che c'è l'upper? è bianco è morto è morto dalla 6 gg quante persone ti stavano guardando erano 16 persone che la stavano guardando così si imparano ste merda marza blink dimo ci penso io is is oh no